Amici siamo a Villa Celimontana, parco pubblico di Roma dal 1928, proprietà del Comune di Roma dal 1926. In realtà la sua creazione risale al 1500 e copre un sito di età Flavia Traianea del quale possiamo vedere le cinte murarie appena visibili. Il portale monumentale proviene dalla villa Giustiniani al Laterano, posizionato qui nel 1931. Il vele d'ingresso conduce al palazzetto Mattei, attuale sede della Società Geografica Europea. La proprietà fu acquistata per mille scudi d'oro dalla famiglia Mattei nel 1553, la quale la perse nel 1802. Oggi parco pubblico e visitabile e ogni anno gli si tiene una rassegna jazz organizzata.